Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video Io Prima stavo facendo lo stesso video Da caricare però L'ho buttato al secchio Perché Non mi piaceva Come stava venendo Comunque Vediamo cosa esce Ok sempre la stessa zuppa Ormai la conosciamo tutti Un E non mi viene il nome Cosa Cosa si chiama Due Un po' scarso mi sembra Cioè Vabbè Comunque Auto Facciamo una zuppa tipo acqua E Due solo va bene Vai vediamo il pokemon che troviamo Nuova Nuova ricetta sbloccata e Chi è quel pokemon Che bello è Otto Oddio Ragà Cioè però È forte Pollywood Però È anche allo stesso tempo inutile Perché un pokemon Tipo acqua ce l'abbiamo già Sapete che faccio Tolgo lo zubat Tolgo Tanto stanno allo stesso livello Quindi Ce la faccio oggi Tanto stanno allo stesso livello Quindi Ok Leva tutto E Perfetto Leviamo subito lo zubat Mettiamo Pollywood Andiamo adesso Subito su lui Scusate Comunque Io ho anche fatto il video Dove Sbloccavo le altre due isole Avevo conquistato Questa qua Perché avevo preso Avevo sconfitto il boss E Mi son fatto una di queste Quindi Andiamo a combattere L'aspetto delle pietre pese Sembra che l'aspetto delle pietre Vabbè Bolla raggio L'attacco Eh però Sono inutili Tipo due attacchi Tipo acqua Quindi Vabbè La logica di sto gioco Non funziona Dentro sto gioco Non funziona così Quindi A me sta bene tutto Dai L'abbiamo distrutta A Poliwag L'hanno distrutto Tipo No Scappa Zio Bravo Zio Distrutto Vai Tornado d'acqua Tornado Distruzione di massa Tra parentesi Ok vai Distruggila 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 Vai grande E morto anche questo Perfetto Fino andate Adesso che ci sarà Se è un solo Pokemon Raga Mi sa che li chiama Tu Eh che Chiama Si chiama altri Odish Eh Odish Quindi Dopo sti Odish Vengono altri Schiatta No Di Exeggio De Exeggio Agbu Mi viene il nome E mi attacco anche questo Perfetto Poi là Pokemon tipo volo È distrutitivo Poliwag È morto Vai Poliwag Boom Eh raga Io direi Scappiamo un po' Per Regenerare Via 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 E via Scappa 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 Va Eh Poliwag Eh raga Inizia a essere rosta Vai Exeggio Dordio Lola Exeggio No 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 Sì Zio Scappa Zio Eh vabbè Siamo morti Scappate Oh Ma siete Sordi Via Vabbè Sto genio Appena schiattato Eh raga Rimane solo Pidgeot Pidgey Volevo dire Ma vuoi Scappare Ma scappa Genio Mia raga La fisica La fisica Di sto gioco Proprio Scappa Ma è cretino Raga Ma Che cacchio Scappa Ma vuoi Scappare Iiii Amma mia Raga Questa mi sa Che è la prima partita Che perdiamo Vabbè Il Pidgeot Il Pidgeot Perché mi confondo E' morto Scappa No Via 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 Poliwag Eh raga Abbiamo perso Eh Abbiamo perso Dai Abbandonaci Ah Fastidio Che mi da Sta roba Che abbiamo Già perso Nella prima partita Comunque Avanzati Più Dieci di questo Non l'ho fatta Il calderone Almeno No Ma sono scemo So Comunque Questo Si va bene Statua Le statue Le mettiamo tutte qua Questa è la prima Quindi la mettiamo al centro Ok Perfetto Obiettivi Posiziona statua Fatto Decora a base Vabbè Fatto Adesso Auto No Faccio Tipo elettro Va Pari pari Si Zuppa Tipo elettro 20 Ok Perfetto E Tipo elettro Una ricetta Sbloccata Pokemon Psyduck Eh Ma Perché Psyduck Perché Ma fa schifo Psyduck Eh Mamma mia Rimettiamolo Si Vai Eh raga Continuiamo Finché non troviamo Un po' come un buono Che vedevo di Un altro Pollywood Ah Questo che mo' sa Più inutile dell'altro Cento volte di più Ok Tipo terra Inizio Ok Sì Perfetto Eh raga Dobbiamo continuare Grande Nuova ricetta Va bene E un otis E un otis E un odis Mi sto confondendo Mi sto confondendo con Brostars E Scusa Mi dispiace Mi dispiace Poliwag Un po' come Tipo acqua Tavevo detto Che c'eravamo già Quindi Duravi tanto Quindi C Quindi Mi dispiace ma Odis È Cento volte meglio Metti Metti Sì E E riciclo Sì Perfetto Quindi poi Dobbiamo fare Ah Inprinting Sprinting Dobbiamo Prendere Sì Vabbè Lo conosco Sta roba Non l'ho fatta Vedete Il mio cugino Sette Dobbiamo Dobbiamo Prendere Questo No È Già Solo Lui Successo Serviamo Cento Per cento Mossa No Level Tanto Ce l'abbiamo Già Quindi Inutile Comunque In questo video Abbiamo Sbloccato Questa statua Abbiamo Sbloccato Questa statua Un attimo Abbiamo Sbloccato La statua Di Rattata Poi Poi abbiamo Trovato Poi abbiamo trovato Novi Pokémon E abbiamo sconfitto Un'isola Quindi Sono molto felice Poi Un Pokémon Acqua Giustamente Tanto Scarsissimo Sarà E che Non lo sapevo Comunque Ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Sempre Di Questa Vanilla Con I Pokémon E Ci vediamo Ciao Ciao